si se me le inviate accetto assolutamente tutte le amicizie alle volte accetto anche quelle false perché così faccio credere all'hater che ci casco capito lo rendo felice insomma ah finalmente qualche mappa diversa perché non era più cosa comunque penso di cambiare gioco tra poco cambio gioco perché non ne posso più di world of warships quindi può essere che cambio gioco e andiamo su quell'altro iniziamo sì sì perché oggi su world of warships non gira per nulla non gira non gira no guarda cypher leggo certe cose assurde lo dico sempre vabbè profili fake a non finire sì infatti non capiscono la cosa ancora che forse non è chiara anche se mettono il non mi piace al video youtube fa un conteggio di tutte e due le cose perché viene viene come dire calcolata l'azione sul video indipendentemente se sia un mi piace o non mi piace quindi poi di conseguenza il video in qualche modo può finire anche in tendenza avete presente un po di tempo fa che ci stava sempre quello in tendenza che aveva tipo 7 mila non mi piace no di tutte persone che insomma mettevano appunto non mi piace e finiva in tendenza non per le visualizzazioni sicuramente anche per quelle ma soprattutto per le azioni che il video portava non so se mi spiego quindi mi fanno anche un favore quando mettono non mi piace sinceramente bisognerebbe non andare sul canale quella è l'unica è l'unica mossa da fare però alcuni non ce la fanno quindi mi danno ancora più visibilità possiamo sparare abbiamo una duca use torpedoes on battleship e beh tra i com'è oh ma dove cazzo andate dai eh ma mi fate girare le palle bro uno si impegna e poi non serve a niente comunque cittadella eh ma insomma qualcuno se la fosse persa cittadella quello lì mi sa che vuole essere affondato comunque qua lo vedo molto 1030 male lo vedo molto la chiede la kill proprio vuole essere affondato aspetta aspetta vediamo se riesco a percarlo no ragazzi basta mi sono rotto il cazzo cambio gioco disinstallo tutto cancello tutto basta mi sono rotto il cazzo mi sono rotto il cazzo non si può ma neanche a fortuna dici beh becchi il team che fa tutto lui no non lo becchi non lo becchi un cazzo non becchi niente aspetta fammi ragionare così così non dobbiamo sparare così giusto giusto che pazienza che pazienza quello sta cercando di tornare in america sta cercando di tornare come il caccio torpediniere è finita la mappa e cerca di tornare in america ah un kill ottimo attenti io ti affondo ti affondo che mi è rotto il cazzo 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 1030 poco ragazzi ripeto questa nave fantastica lenta ma letale ricarica in 35 secondi sono sopra la media la nave è più lenta del del gioco in tutti i sensi però merita e a me vanno una merda vanno male 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 vanno male 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 brava 8000 8000 8000 ciao ciao cypher come si fa a fare 8000 spara quello che ho un po' capito no? se provo di sparare spara a lui a me 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 doppia kill elementare elementare watson davvero elementare watson se non si vince neanche così veramente non si vince più oggi non c'è possibilità per me grazie grazie dai ragazzi dai che la possiamo vincere questa ci dobbiamo credere eh arrivano le rossi duranti la falla lo sapevo che doveva esserci la falla un siluro di merda mi ha beccato falla è davvero incredibile davvero incredibile non ci voglio credere non ci voglio credere non posso recuperare neanche più vida non posso recuperare sto usando anche l'aereo che non mi piace per disperazione veramente ah per poco no siamo al limite no non lo becco più ok una kill per day no 1030 non ci credo 1030 1030 non ci voglio credere veramente non ci credo non ci voglio credere 1030 ah ma alla fine è morta la nostra nave non ce l'ha fatta a distruggerla l'emili buono no veramente questa partita da pazzi ma che smoke spara tutti che smoke che smoke no no tiro cazzo ma devi fare il kraken dai almeno il kraken no concreta no non lo vedo niente kraken poteva arrivare il kraken ma non arriva non ce la faccio sono fuori gittata peccato eh sono fuori gittata sono fuori gittata sono fuori gittata ma vieni qua vieni vieni qua che ti affondo se va va se lo becco potrebbe arrivare il kraken no di nuovo 1030 basta veramente devo chiudere questo gioco perché altrimenti spacco tutto non è possibile 1030 1032 volte ma va 1030 capito eh capirai capirai la grande kill potevate lasciarla a me facevo un altro kraken almeno mi devo accontentare del doppio colpo che non è male però 1637 buono 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 è tra la vittoria 375 mila credit ottimi con la scima no ragazzi oggi è stata devastante la veramente devastante 47 guarda con lei zoom basta che spari anche a caso e fai più di 47 ragazzi live di world of warships terminata se volete continuare a seguirmi seguitemi perché tra poco gioco all'altro gioco insomma quindi ci vediamo tra un minuto ciao 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 ciao